ragazze buongiorno bentornate in un nuovo vlog io e Ale stiamo per uscire per andare a prendere fede a scuola e c'è un sole pazzesco fuori e nonostante io sia molto meteoropatica quindi di solito quando c'è il sole e il buon umore oggi sarà che è il secondo giorno di ciclo quindi ho gli ormoni in palla, sono nervosissima quindi ho detto vabbè fammi iniziare un vlog che magari parlare con le mie stelline mi aiuta a pensare ad altro non lo so ragazzi, oggi gira male, capita a tutte sapete che vi dico il bello e il brutto e oggi proprio quelle giornate proprio nervose, nervose, nervose dove mi devo proprio coccolare oggi ovviamente non si può con il cibo come facevo prima quindi coccole di altro genere quindi accendermi una candela che mi piace non lo so, mettermi la mia crema preferita mi devo inventare qualcosa perché sennò di oggi mi viene una crisi isterica comunque vabbè ci siete voi a tenermi compagnia quindi grazie e niente, tra l'altro ieri sera ho ricevuto un commento bruttissimo sul discorso dieta, se vogliamo chiamarla dieta io ragazze non ne posso più nel senso che veramente queste cose mi fanno cadere le braccia e mi fanno proprio passare la voglia certi argomenti proprio sono un tabù sui social e passa proprio la voglia cioè non posso neanche dire che mi voglio un po' tenere cioè non sto facendo niente di trascendentale c'è chi fa delle robe assurde io semplicemente sto riducendo ragazzi un po' di zuccheri, un po' di pane e mi stanno mettendo in croce veramente poche per fortuna perché sul mio canale devo dire non mi posso lamentare c'è un'ottima community un linguaggio super educato però a volte ne becco certe proprio di una maleducazione allucinante che neanche passo le blocco, le butto, le cestino proprio ovviamente mi riferisco ai messaggi perché non so c'è una farfalla qua sopra immensa è proprio qui sopra non so se vedete le alette vediamo, ecco cioè è bellissima era bellissima era tutta nera con delle sfumature e continua a svolazzare qui vicino alla finestra non lo so sarà che oggi sono particolarmente sensibile ma l'ho visto proprio come un nonna magari è nonna che mi viene a fare un salutino chi lo sa vabbè vado a prendere fede ragazze è meglio che bella che sei mia patatina saluta fatti vedere ciao 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 che bella con gli occhiali grazie andiamo ciao ciao rieccoci qua ragazze allora Ale sta ancora facendo il riposino quindi volevo approfittarne per parlarvi dei miei libri del periodo anche se leggo poco non ve lo nego leggo poco però allora l'ultimo che ho acquistato è questo qui sono a pagina 77 quindi ed è teddy ed è un thriller abbastanza inquietante devo dirvi la verità ma è molto molto bello di jason jason non jason jason reculac e mi piace veramente veramente tanto costa 16,90 e l'ho trovato in offerta al care foro a 16,06 euro ed è veramente veramente bello e questo lo voglio assolutamente finire cioè costi quel che costi poi mia nonna in realtà questo gliel'avevo regalato io però mi ha detto che è molto bello e me l'ha dato da leggere ma mia nonna non sa che io veramente non non riesco a trovare il tempo di leggere cioè è pazzesco per quanto io mi sforzi dovrei sforzarmi di più mi rendo conto perché anche fossero solo 10 minuti al giorno ma dovrei leggere e poi mi ha dato anche questo sempre di nicolas spark la magia del ritorno nicolas spark nicolas spark glielo feci conoscere io perché mi innamorai tanti anni fa di quel libro che scrisse dove poi fecero anche il film con Kevin Costner bellissimo adesso mi sfugge ma ve lo scrivo qui sotto perché adesso lo vado a cercare mi metto qua la copertina del film perché anche il film è veramente veramente bello solo che da qualche anno a questa parte ho un po' rifiuto del romantico infatti non guardo mai film romantici non leggo libri romantici non lo so non lo so ho paura nonostante io sia una donna strafortunata perché comunque ho una bella relazione d'amore anche al momento attuale nonostante siamo passati dieci anni però ho paura che questi film questi libri non lo so di sentire un po' troppo il distacco con la realtà sono diventata molto realista negli ultimi cinque anni e mi rendo conto che l'amore non è una favola e molto spesso invece ci fanno crescere no? un po' con i cartoni animati Disney e tanto altro sempre con quest'idea fiabesca e secondo me è sbagliato cioè magari non tutte voi sarete d'accordo però secondo me è sbagliato far crescere specialmente le bimbe le femminucce secondo me si attaccano molto a questa cosa o meno per quanto mi riguarda è successo così ha quest'idea fiabesca dell'amore fantastico meraviglioso il principe che ti viene a salvare sul cavallo bianco e io invece sono sempre un po' per far crescere mia figlia infatti a volte anche quando Riccardo fa qualche lavoretto li dico sempre poi quando sei più grande papà ti insegna perché io voglio che mia figlia sappia fare tutto cioè io bene o male me la cavo in tutto ma non perché i miei genitori mi abbiano inculcato che io dovevo saper fare tutto questo è più una cosa mia non è che è un passaggio di generazione in generazione è una cosa mia però io ho dovuto ho dovuto imparare tante cose perché la vita mi ha messo di fronte a tante difficoltà tantissime tantissime per l'età che ho credetemi tantissime non inerenti alla salute a problemi di quel genere lì perché mi rendo conto che ci siano tanti tipi di difficoltà proprio difficoltà legate alle mie scelte a volte per causa delle mie scelte sbagliate a volte causa della sfortuna ok quindi spesso mi sono dovuta ritrovare a dovermi arrangiare nella vita e io non voglio assolutamente che mia figlia si metta con qualcuno non perché lo ami realmente ma per sfuggire a una situazione perché ha bisogno di qualcosa che lei non è in grado di fare non so se mi sono spiegata ho questo timore e quindi quindi questo sono un po' contro cioè ci sta a vedere il film romantico il cartone animato per quanto riguarda lei ma le inculco sempre il fatto che è bella la favola si può trovare qualcuno nella vita che ci fa sentire come in una favola ma non sempre è così cioè la realtà è un'altra cosa l'amore non è una favola l'amore è lottare superare difficoltà non capirsi tendersi la mano anche quando non si è d'accordo in qualcosa saper disinnescare e non alimentare in certe situazioni anche quando vorresti alimentare devi saper disinnescare devi saper capire quando è il momento di lasciar perdere perché non è il caso perché è una stupidaggine o perché è orgoglio o perché è testardaggine l'amore è tante sfaccettature di pazienza oltre che di momenti felici gioiosi fantastici amore è venirsi incontro anche quando non si è d'accordo su quello che l'altro vuole fare cercare di farlo felice di farselo andare bene per quieto vivere o per vedere l'altro felice semplicemente quindi l'amore è talmente tante cose che secondo me non si può ridurre in una favoletta dove il principe arriva sul cavallo bianco e ti salva perché l'amore non è sempre essere salvati l'amore è a volte anche sentirsi criticati sentirsi non sempre capiti a volte sbagliati e lottare contro queste piccole sensazioni e ricordarsi che l'altra persona comunque ci ama anche se è una giornata storta anche se è una giornata dove è più antipatico e meno simpatico e tante tante cose l'amore quindi secondo me questo inculcare solo il film romantico non so ma è mascociato ragazzi sarò diventata una vecchia cida ditemi quello che volete ma io non lo so sono più infatti a volte magari è San Valentino il mio compleanno non so c'è qualcosa che poi lo farebbe anche in un giorno qualsiasi però a volte Riccardo mi dice che dici ci vediamo dai vediamoci un film romantico pensando di farmi contenta io no no scegli pure un bel thriller cioè nel senso io proprio lo stronco là dico no no non lo voglio il film romantico perché non mi rompe dei film romantici il notare la tanta differenza con la realtà perché non è così perché non sempre poi c'è film romantico e film romantico e c'è quello un po' pompato che è quello che a me non piace e c'è quello un po' più realistico o la commedia ecco quelle cose lì mi piacciono ma dopo un po' e quindi anche questi libri di Nicola Spark li leggevo quando ero più ragazzina adesso invece mia nonna ha sempre letto cose romantiche anche oltre anche a tanti thriller tipo Ken Pollett mi veniva Nicola Spark ma no Nicola Spark fa proprio questo genere un po' romanticoso Stephen King cioè libri come Teddy per esempio lo vorrei passare a mia nonna perché lei sicuramente piacerebbe e poi invece un libro che a proposito di questo argomento vi consiglierei e forse ve l'avevo anche già consigliato tempo fa per chi mi segue da un po' l'avrà già sentito chi invece mi segue da poco no ed è questo libro qua questo libro qua di Piero Angela che è piccolino e devo ancora finire ovviamente perché è qua nel comodino insieme al libro del principe Harry che è un mappazzone grosso così non ce la farò mai a finirlo però mi devo imporre di leggere ragazze perché comunque mi rilassa ma mi manca proprio quel tempo forse lo dovrei fare quando sono allettata quando influenza ecco invece che guardarmi i video forse dovrei leggere perché lì realmente avrei più tempo più testa però questo libro qua mi piace un sacco perché si chiama Tiamaro per sempre parla proprio dell'amore in termini più scientifici più realistici e quindi è molto interessante ve lo consiglio poi costa poco 11,50 euro ma su Amazon una volta è scontato dategli un'occhiata è una lettura che consiglio a chi è sposato chi è fidanzato da tanti anni una lettura per relazioni di lunga data oppure per chi ha una relazione anche da poco ma che vuole prepararsi diciamo a quello che può succedere dopo o comunque al perché di tante cose è molto molto interessante e più sullo scientifico ma è più realista secondo me rispetto a un libro di Nicholas Park dove si sogna un po' più e mi scoccio vabbè ognuno di noi è fatto a proprio modo ragazzi io vi dico la verità da quando è nata Alessandra non lo so sono molto molto meno romantica vabbè comunque detto questo io dovrei fare lo spuntino sono le sei e mezza quindi un po' tardi però non lo so adesso scendo con voi vedo che cosa ho nel menu che abbiamo fatto io e Riccardo l'altro ieri no l'altro ieri inizio settimana e vedo un attimino in base a che cosa ho stasera se farmi lo spuntino o no se no mi faccio solo un tè ragazzi abbiamo un bel tè caldo e voilà e oggi si stava così bene in casa con il sole che non abbiamo neanche acceso la stufa oggi quindi meglio così però magari l'accendo adesso visto che si sta facendo buio e ci vuole ci vuole ragazzi vi mostro la gioia di questa sera c'è rottino ora è tutto passato però me la sono vista un attimino brutta perché non smetteva di sanguinare infatti a un certo punto ho alzato il braccio sono stata un po' così e ho iniziato a smettere e mi sono tagliata mi sono tagliata di brutto ho fatto anche stra 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 attenzione proprio perché so che le lame di questo tritatutto sono stra 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 taglienti e mi sento anche di dirvi che ve lo consiglio questo tritatutto perché mi trovo stra stra bene ho detto stra per caso è questo qua aspettate che lo prendo e ve lo rifaccio vedere lo trovate su Temu e l'avevo preso con con la scorsa collaborazione ed è fantastico ha tre lame all'interno che tagliano tantissimo ma tantissimo infatti se lo prendete mi raccomando fate molta molta attenzione quando le lavate io faccio sempre molta attenzione proprio perché infatti lo maneggio veramente con tanta cura e attenzione sempre infatti non mi è mai successo nulla oggi ve lo faccio vedere vedete sono veramente tanto taglienti e proprio per questo mi trovo bene nel senso che mi trita veramente benissimo io lo utilizzo per tagliare lo scalogno la cipolla l'aglio se lo voglio tritare fine 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 trita veramente benissimo ed è ricaricabile qua c'è il tappino chiuso ma dentro c'è lo spinotto da inserire e ogni volta che voi infilate il tappo nella lama adesso vi faccio vedere dove azzeccare il ok vi dice se è carico o no quando è blu è carico se invece è scarico inizia a lampeggiare rosso o rosso e blu che vi dice che è quasi scarico è veramente veramente carino e vi faccio vedere basta cliccare qua veramente comodo però appunto ho fatto molta attenzione utilizzando questa spugna qua secondo me forse il problema potrebbe essere stata la spugnetta non lo so perché proprio perché so che taglia molto invece che sfregare ho tipo tamponato le lame ho fatto così no schiacciando piano piano facendo attenzione ma qua ho proprio sfiorato la lama e mi ha tagliata subito cioè sono stra stra filate stra 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 se non si fosse capito stra è tutto stra comunque mi fa malissimo tra l'altro mi pulsa tantissimo non smetteva di sanguinare e ovviamente ho aspettato un attimino che si fermasse un pochetto per mettere il cerottino perché avevo paura che che si inzuppasse subito e fosse da da cambiare subito non aveva senso quindi ho tamponato un pochettino ho tenuto sul braccio finché ha smesso un pochetto e poi ho messo il cerotto però vedo già l'alone sotto quindi mi sa che tra un pochino è è già da cambiare vabbè diciamo che non è proprio la mia giornata infatti vi ho messo anche la la storia su instagram per raccontarvi in diretta la 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 sfiga la sfiga di oggi vabbè tra l'altro se non mi seguite su instagram vi invito a seguirmi se siete specialmente se siete nuove nuove iscritte tra l'altro ecco adesso che mi sono grattata qua l'altro giorno ho dato una testata alla macchina cioè proprio qui perché mi sono vuoi dire perché mi sono piegata sapete no io ho la macchina che ha tre porte quindi non ho le porte dietro quindi tiro sul mio sedile lato guida per prendere ad ale le giacche prima di farla scendere e ho calibrato male la misura quindi ho fatto così per prendere le giacche ma ero troppo in alto quindi ho toccato la lamiera diciamo del del bordo della porta della macchina un dolore che mi sono proprio fermata un attimo così e Fede mi fa mamma che hai ho dato una testata mi fa no vabbè non ci credo e vabbè capita quindi è arrivata a casa ho messo il ghiaccio ma dalla macchina a tempo che sono arrivata a casa insomma era abbastanza inutile e non so se si vede un lieve bozzetto o qualcosa ma vi assicuro che se schiaccio qua mi fa male però vabbè niente di grave non dovrebbe neanche esserci il livido vabbè ora che vi ho raccontato tutte le mie sfighe io direi che questo vlog lo possiamo anche chiudere qua la frittata è venuta buonissima anche il contorno grillato è sempre sempre buono ho acceso la un po' la stufetta si ho ancora le giacche da sistemare ma diciamo che quando Riccardo fa i pomeriggi la prende un po' più un po' più easy poi oggi non sto neanche bene ragazze comunque che bello vedere la stufetta accesa e basta io vi mando un bacione grande io e il dito tranciato vi voglio tanto bene ci vediamo al prossimo vlog ciao muah